Cosa sta succedendo all'Università di Camerino e quali sono i termini dell'accordo che è stato poi sottoscritto con l'Università di Macerata? Ecco, quello che sta succedendo è che si sta terminando l'iter di un accordo con l'Università di Macerata. Macerata proprio stamani ha il Consiglio d'amministrazione, il passaggio nel Consiglio d'amministrazione dell'Università di Macerata è l'ultimo atto di un percorso che è cominciato al Ministero dell'Università, è continuato passando attraverso il nostro Consiglio d'amministrazione, poi il Consiglio provinciale di Macerata e adesso il Consiglio d'amministrazione dell'Università di Macerata. I tempi sono molto stretti perché l'accordo, fra le varie cose che prevede l'accordo, c'è anche un finanziamento ministeriale a valere già su questo anno 2009 e quindi è importante la tempestività perché altrimenti queste risorse non potranno essere erogate nel 2009. I termini dell'accordo. L'accordo riguarda principalmente tre punti. È un accordo di collaborazione fra le due università, non esiste la parola fusione, non esiste per iscritto, ma non esiste nemmeno nella mente delle persone che si sono sedute intorno al tavolo per siglare questo accordo. Non è all'orizzonte, né vicino, né lontano, né lontanissimo. Queste due università esistono da almeno sette secoli. Se qualcosa doveva succedere, ha avuto tempo sette secoli per accadere, non è accaduto, non credo che accadranno i prossimi sette secoli. Piuttosto oggi, dato che le distanze non sono più quelle del 1300, due università che si trovano a 30 km una dall'altra non si possono ignorare, questo è un dato di fatto, due università della stessa provincia, due università che sono largamente complementari. Quindi abbiamo parlato e parliamo nell'accordo di una integrazione dei servizi, è inutile duplicare tutto quello che può non essere duplicato. L'accordo prevede anche una razionalizzazione dell'offerta formativa, che consiste in primo luogo nell'evitare le repliche fra le due università. Ora, repliche non ce ne sono molte, perché le due università, come dicevo, sono largamente complementari, però c'è apparentemente la stessa cosa che si fa nei due posti, e cioè la facoltà di giurisprudenza. Però noi abbiamo intrapreso un percorso che conduce a una netta differenziazione fra le due facoltà di giurisprudenza, che sottolineo il due, perché sono due e resteranno due. Quindi non c'è, anche in questo caso all'orizzonte, né vicino né lontano, la chiusura di una delle due facoltà di giurisprudenza. Rimane la giurisprudenza a Macerata, rimane la giurisprudenza a Camerino, con uno sforzo progressivo di differenziazione e caratterizzazione. Perché questo? Per poter rispondere a chi ci dovesse dire un domani «Ma voi non siete efficienti nella gestione delle risorse, perché fate la stessa cosa a 30 km di distanza», noi dobbiamo essere in condizione di rispondere «Non è vero, questo è quello che fa Camerino, questo è quello che fa Macerata». Entrambe rilasceranno delle lauree in giurisprudenza, delle lauree che serviranno per esercitare la professione dell'avvocato o del notario o del magistrato, ma i percorsi per arrivare a queste lauree saranno differenziati nelle due università, in maniera da coprire, come si direbbe con linguaggio preso a prestito dal mercato, da coprire target diversi, da coprire tutte le esigenze del mercato. Nell'accordo si parla di «school of law» per quanto riguarda Camerino, cosa significa questo? Questo significa, si parla di «school of law» barra «scuola di giurisprudenza», quindi così giustamente in un documento ufficiale italiano si usa anche la lingua italiana, ma io credo che l'uso della lingua inglese sia molto importante, questo è il senso che si vuole dare. Come mai c'è stato bisogno di una collaborazione dopo, visto che l'ha già citato, sette secoli tra Camerino e Macerata? Cioè c'è qualcosa che va al di là del rimodulare un'offerta formativa, magari anche da parte del Ministero? Certo, c'è qualcosa. C'è una situazione che è cambiata, c'è una situazione che è cambiata fra l'altro rapidamente, perché 25 anni fa le università italiane erano 27, oggi sono 62. Il Ministero dice «troppe», è una parola impegnativa perché «troppe» significa qualcuna deve sparire. Noi non vogliamo sparire, questa è la risposta. Quindi vogliamo costruire un polo universitario forte, basato su due Atenei, ripeto anche in questo caso due Atenei, perché la parola fusione non è all'ordine del giorno, né ora né in futuro, però questi due Atenei devono dare grandi segni di vitalità, non devono apparire come due università asfittiche, due università che vanno avanti in maniera stentata. Devono essere due università ben presenti sul mercato internazionale della formazione e questo è possibile se ci mettiamo insieme, perché altrimenti noi non riusciamo a rispondere in maniera integrata al territorio. Cosa succederà agli studenti di scienze politiche e soprattutto ai professori? Si parla nell'accordo di mobilità e ecco quanto c'è di vero in questa affermazione. Questa è completamente vera, nell'accordo si parla di mobilità, nell'accordo si ritiene che... E anche di una riduzione del numero dei professori. Certo, si ritiene che i corsi di laurea o di laurea magistrale che non sono sostenibili da un punto di vista proprio economico, non debbano essere sostenuti diciamo per forza con una politica di tipo assistenziale. Noi stiamo puntando, e questo si evince dall'accordo, ad una sostenibilità totale dei nostri atenei, cioè tutto quello che noi facciamo deve essere sostenibile. Bene, il corso di laurea in scienze politiche abbiamo valutato che non è sostenibile, per cui agli studenti attuali non succede assolutamente nulla, nel senso che continueranno il loro percorso dove l'hanno iniziato. L'Università di Camerino non aprirà ulteriormente il corso di laurea in scienze politiche. Chiaramente, progressivamente, in maniera certamente non forzata perché la norma non lo consente, alcuni docenti saranno messi a disposizione del sistema universitario nazionale, quindi anche dell'Università di Macerata, ma non solo dell'Università di Macerata, e qualora trovino una collocazione di loro soddisfazione potranno trasferirsi in un'altra sede. Questo senza che venga in alcun modo diminuita la potenzialità della Facoltà di Giurisprudenza, ora si chiama Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Camerino. Cosa succederà invece alla Facoltà di Veterinaria di Matelica? Ma anche in questo caso l'unica... Perché si è parlato di una disattivazione, almeno all'inizio nell'accordo, poi invece è stata limata un termine diverso e magari meno forte. Esattamente, anche qui la parola chiusura non esiste, io parlerei piuttosto di una grande opportunità e di un potenziamento della presenza della veterinaria matelica. Perché? Perché noi abbiamo osservato anche qui un problema di sostenibilità, problema di sostenibilità legato al fatto che il Ministero ci ha concesso un numero di iscrivibili alla nostra Facoltà di Veterinaria troppo piccolo rispetto alla consistenza del corpo docente e quindi all'investimento che l'Università fa su quella Facoltà. Allora abbiamo dovuto cercare altre cose, quindi non di togliere ma semmai di aggiungere e un'opportunità ci è offerta dalla possibilità di essere l'unica università in Italia, l'unica sede quindi matelica, per la formazione di un nuovo professionista, l'infermiere veterinario, un laureato, un laureato triennale, che è presente in tutta Europa e in Italia non ancora. Noi chiederemo attraverso questo accordo al Ministero di consentirci di attivare questo percorso di laurea, i cui contenuti devono ancora essere definiti ma lo saranno nei prossimi mesi, spero presto, e quindi essere riconosciuti anche dalle altre Facoltà di Veterinaria italiane come l'unica sede che offre questo corso di laurea. Io credo ci sono buone prospettive per ottenere questo tipo di impegno da parte del Ministero e da parte di tutte le Facoltà di Veterinaria italiane. A me sembra una grandissima opportunità che possa aumentare il numero di studenti presenti nella sede di matelica, fra l'altro studenti residenziali, perché è un corso che prevede la frequenza obbligatoria, quindi a me sembra che il territorio abbia molto da guadagnare e niente da perdere da questo accordo.